Stretta di mano imbarazzata, Pechino fra due nemici storici, il presidente cinese Jinping e il premier giapponese Shinzo Abe, con il primo che ha persino difficoltà a guardare in faccia l'interlocutore. Ma è un primo passo verso la normalizzazione, dopo due anni di gelo diplomatico. Uno dei motivi dell'incontro è il fatto che Pechino ospiti il vertice dell'APEC, l'Associazione dei Paesi dell'Asia Pacifico, così il premier nipponico Abe. Credo che non solo i nostri vicini asiatici, ma anche molti altri paesi abbiano sperato che il Giappone e la Cina tornassero a parlarsi e noi lo abbiamo fatto. I due paesi si impegnano a contenere la tensione nel mar della Cina orientale, dove si trovano le Senkaku di Aoyou, le isolette disabitate controllate da Tokyo, ma rivendicate da Pechino e alla base delle tensioni fra le due nazioni. Grazie. Grazie.